sono scemo quindi ho sbagliato a registrare qui c'era un bastone dov'è questo qua il bastone d'ossa e qui invece c'era il tizzone che c'è sempre di là ci si arriva dopo di qua sono anche morto sbagliando a registrare sono morto qui infatti eccole lì perché c'è un persecutore giusto eccolo qua perry no lo scudo mamma mia lagga tutto anche guarda si esplode uno due devo fargli un perry però è questione morale di fargli un perry stanno arrivando anche altri no i cani no però ah no 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 muoio muoio e scado aiuto gemme vitali madonna perry niente vabbè lascio perdere no niente niente bisogna andare via niente non riesco a fargli perry no piano cretino sono morti tutti sì dai non fare gli spiriti malvagi e e muoio io perché sono scemo piano stavolta e no e vai cagare qui si apriva sì culmine e quindi eccolo qua ah è quello sì va bene quello scuro non rompere il barile ti prego ecco qui ci sono i ganker via aia 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 eh lo sapevo guarda che prima o poi dov'è eccola ve lo dai ok andiamo prima giù di qua cretino un altro osso di drago tanto non è che ne troviamo cinque ogni episodio se aspetti un attimo io come faccio ah ok grazie mi ho fatto passare manca tutta la parte del fabbro quindi tutta la l'inizio praticamente della bastiglia però ci arriviamo poi nel senso che dopo di loro la prossima tappa è tornare in quel maledetto pontile e prendere la nave quindi tornare alla bastiglia ma dal lato giusto diciamo ma ora ci sono le aiuto le sentinelle che ah gliene facciamo tanto di danno eh se magari non mi sfondano le orecchie con la musica sono anche contento dai che forse riusciamo a batterle senza scendere almeno una o due ok e mi sono avvelenato da solo perché sono scemo no ah le benedizioni aspetta eh no muoio niente vabbè ne ne facciamo però già che sono morto riprovo ad aprire qui vai niente si deve curvare no pure i cani aspetta vai 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 fammi accendere il falò fammelo accendere solo maledetto oltre gli scrigni che ora vediamo cosa c'è ah l'anello quello che è l'italianime che però abbiamo già quello normale che avevamo trovato l'abbiamo già dovuto cambiare vincenso va bene scudo dell'alla dorata eh ah 60% fisico lo faccio spostare così vai non stare lì che mi serve lo scrigno che c'hai sotto il culo parma solare ho appena cambiato scudo c'è soleil sopra provo a fare provo a fare lo shortcut più brutto mai creato provo io provo bene beh tanto prima gli abbiamo fatto tanto danno il problema è l'avvelenamento quindi devo stare un po' attento e niente dai che una praticamente morta no dai ti prego non cadere ok una ora arrivano le altre ahia eh vabbè io adesso tornerei a potenziare l'estus però ecco qua perfetto e torniamo dai boss dai ti prego oh meno male uno e basta perché sono mio veleno balza bravissima ahiaiai cado io non cadere ma ecco qua il problema è quando sono due perché quando sono due combatterle qui sopra è un po' dura ahiai eccola la prima non pensavo fosse già arrivata il problema è che è che siete due ora non ci stiamo in tre ma in realtà è abbastanza scema l'altra ok no disbieco no e lo sapevo ferma lì con quell'affare lì uno due ora tocca a te ho il batticuore aiuto devo stare calmissimo col veleno un colpo ora schivo perché mi si deve abbassare la barra però ci siamo ci siamo dai è vinta è vinta è vinta uno e due che che combattimento una torcia tra l'altro beh utile ah sì cinquemila muri nascosti oh eccone uno e abbiamo fiamme della farfalla ah tre anime di eroe allora qui ce n'era uno qua esatto e qui dentro davvero direi di andare per la strada giusta e anche qui da qualche parte c'era un muro o mi sbaglio forse mi sbaglio no eccolo qua no non rompere lo scrigno ok ne ah siamo arrivati urna di acqua sacra qui esplodono aiuto si è bloccato tutto il gioco ok è tornato è vivo sta bene direi di concludere livellando perché abbiamo 62.000 anime più le anime di eroe più probabilmente qualche altra anima un po' di vitalità perché non ne abbiamo proprio tempra anche assolutamente destrezza che potrebbe venire bene almeno fino a 14 direi e direi di portare tempra a 15 dai direi che sta andando bene siamo riusciti a battere un altro boss vuol dire che sta andando tutto liscio e sono molto molto contento io come al solito vi ringrazio e ci vediamo nell'episodio 6 grazie Grazie a tutti.